Musica Hello guys, RandyRana here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Siamo su Battlefield 3 Oh mio dio, Randy, che cos'ho stai a dire? Stai giocando a Battlefield? Tu? A Battlefield? E da quando giochi a Battlefield, Randy? Eh, ma vabbè, più che altro non ci giocavo effettivamente da davvero un sacco di tempo La motivazione non lo so Perché sto giocando a Battlefield? Perché non ci giocavo un sacco di tempo Quindi penso di avervi detto tutto E niente, voglio di farmi un match Ho detto, ma sì, vediamo se c'è ancora qualcosa un po' su questo BFF3 Questo su Battlefield 3 Ehm, non lo so, niente Ma proviamo qualcosina un po' così Ovviamente non sto giocando a una mappa normale Questa è una mappa di Aftermath Non vorrei di stronzate ma dovrebbe essere di Aftermath a casa mia Ehm, facciamo un deathmatch Tranquillissimo, sapete che io amo solo deathmatch Ehm, lo gioco su COD, lo gioco su Battlefield Lo gioco su COD, lo gioco su Battlefield Lo gioco anche lì Ok, basta Ehm, cambiamo arma perché questo Yawgz non mi sta a piacere Prendiamo il nostro M416 Ma M416, in realtà ma M416 Mi gusta di più perché fa più Più, 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 più powa Più, più, più powa Basta Basta Ehm, quindi niente Siamo un po' su Battlefield Andiamo a epicamente smacazzare un po' tutto Ehm, mi stavo chiedendo più che altro Se riuscissi mai a giocare Decentemente su questo gioco Dopo che non ci gioco da una vita e mezza Ovviamente la risposta è no Però, vabbè Ehm, uno se lo chiede lo stesso Sai, rimani là un po' tipo Dai, cazzo Ma, Renna Poi, puoi farcela Perché, perché tu sei, sei, sei figo Perché, perché sei un pro Invece, invece no In realtà non è così Mi sto solo riempiendo di, di menzogne Inutili Menzogne Oddio l'è ammazzata Oh, da dove cazzo mi spara tutto Guarda il coglione laggiù Porca puttana Carica, carica Eh, te pareva uno dietro Tutto, ci sono ovunque Sto mappa Io ancora non l'ho capita come ha fatto Cioè, dovrei giocarci un po' di più su sto mappa Mh, ci ho giocato poco a Aftermath Cazzo, io ho giocato tantissimo In Close Quarters Close Quarters Perché è bello Perché Per uno a cui piace COD Però Non, non Ti sdegna Neanche Battlefield Close Quarters È il DLC Perfetto Poi ti becchi Poi ti becchi Tipo questa roba così In cui sei abituato Tipo a COD Che con quattro colpi Sciotti la gente E non riesce più a giocare a Battlefield Guarda 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 Cioè, l'avevo ucciso Ho lasciato il grilletto apposta Perché pensavo fosse morto E invece no E invece no Ma dai Ma dai Perché altro mi trovo scomodo Sul fatto che devo tenere Ho premuto Shift O fare due volte W Perché Su COD Mi sembra Appena premio Shift Corre E continuo a correre E sono abituato a COD Ormai Mai, bro Non pensavo di dirlo Tipo nella mia esistenza Da PC Gamer Per adesso Perché è comunque Relativamente Giovane Come esistenza Mannaggia la granata Non pensavo di dire Sono più legato a COD Cioè Non ci ho giocato Per non sapete Quanto tempo io a COD Ce l'avevo sul PC Ma giusto perché L'avevo Preso Ma non ci ho giocato Per un botto Poi invece In questo periodo Ci sto giocando tantissimo E Ho visto Che comunque Non l'ho Non l'ho seguito In molti sul canale Però A me va di giocarlo Quindi lo gioco lo stesso E Un giorno Se mai lo seguirete Anche voi Vi verrà voglia Di seguire COD E ci saranno I miei vaiduts On the channels Perché altro Non ricordo Bro Quando esce il 4 Quando esce il 4 A ottobre O a novembre O a 8 novembre Oh no So 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 Ehm Più che altro Ho letto Ho letto le specifiche Del 4 Raga Ho letto le specifiche Del 4 Mi stavano venendo Non lo so I brividi La pelle d'oca I brividi La pelle d'oca Se potete I brividi La pelle d'oca Non lo so Comunque Sì Davvero Una cosa Allucinante Dicevano Che per giocarlo bene Servono Una scheda video Una 660 Ti Minimo Cioè Minimo Minimo 660 Ti Che è una scheda 250 Euro Più o meno Sì Mi sembra di sì Minimo Cioè come Come consigliati Ovviamente Cioè i minimi Erano decisamente Più bassi Però Io vorrei giocarlo Al massimo Quindi ovviamente Sto A guardare I requisiti Consigliati Che dovrebbero essere Quelli per le impostazioni Massime E così Sì è una 660 Ti Con memoria Dedicata Della scheda 3 giga 3 giga 3 giga Ma minchia Ma è Allucinante Cioè io ho capito Che semmai Sarà una bella grafica Ma che cazzo è Cioè io ho una 670 adesso Da 2 giga E non so Non so Non so Non so Se riuscirò a tenerla Al massimo Spero di sì Spero vivamente Di sì Quindi Incrociamo le dita Anche Non so Anche i peli Anche i peli Del culo Se proprio Oh yeah Perché Penso che lo prenderò A lancio Battlefield Cercherò di prendere Cod e Battlefield On the On the lancio Proprio On the Oh yes Oh yes bitches No raga Questo è girato Adesso mi inculo a morte Guardalo 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 Uno è morto Ok No No Eh Ah ah Bah no Da dietro Chi l'aveva visto Quello dietro Steso Come un Non lo so Come un qualcosa Tu sei morto No bro Mi hai appena reanimato Non morì Non morì Grande Grande GG a noi GG a noi Siamo fighi Questo che stava andando di qua Ah usciva dalla mappa Ok perfetto Oh Guardalo 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 Bello 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 Mamma mia Ogni tanto ci stanno Però Fare quelle provate Comunque Su pc c'è una differenza di grafica tra cod e battlefield Ogni volta che gioco a battlefield dopo che ho giocato a cod per un po' Me ne rendo sempre più conto perché è proprio tanta Proprio tanta Tanta Come passare da Come passare da Bella domanda Che cazzo Passare da cosa a cosa Non lo so Non lo so Come passare da cod a battlefield su pc No Parti scherzi È come se passasse tipo Da un ottimo gioco graficamente parlando di play 2 tipo E uno molto molto scarso di play 3 Più o meno la differenza è quella Come c'è Però non è proprio poi così abissale Questo mi ha ucciso come se non Come se non ci fosse un domani Perché mi hai fatto questo Adesso ti picchio La mamma dice che non devo più morire Battlefield E le sdrogo question Comunque Che stavo dicendo In questo periodo che non ci sono Perché adesso non so quando vedrete questo video Quando mi scazza metterlo in programmazione Comunque in questo periodo sicuramente in cui non ci sono Vedrete Alle 14 video tipo battlefield e cod Che sono comodi a registrare Perché Non portando una serie Cioè io entro in partita E gioco Cioè non c'è un filo Da seguire Tipo che non so Per minecraft Per dirvi Cioè se io registrassi Un episodio E vi faccio vedere un episodio In cui sto più avanti Poi uno più indietro Poi uno più avanti Cioè sarebbe una cosa un po' strana Quindi Non c'è un filo logico Tipo quello da seguire Quello che intendevo prima Ehm Mio dio Mio dio sto sprayando come non mai Prima d'ora Ricarica veloce Qua ce n'era uno Ma mi sa che è morto No 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 Non è morto Non è morto Ma Renna lo ucciderà Mamma mia Mamma mia Renna Mamma mia cazzo Che botte Ok Quanto stiamo a fare Per curiosità 6-8 Ok siamo comunque negativa Sto facendo le mie kill Ma siamo comunque negativa Ehm Stavo dicendo Visto che non c'è questo filo logico Dover seguire proprio la continuità E' comodo Soprattutto quando devo partire O so che tipo Non riesco a registrare Tanti episodi Per coprire un certo lasso di tempo Eccetera eccetera E' comodo da mettere Perché io entro in partita Faccio Se si parla un po' Si dicono Un paio di cosine Tra di noi Siamo felici E GG a noi C'abbiamo anche il video Quindi è molto comodo Mi piace molto questa cosa Che posso usare Battlefield O COD O comunque giochi del genere Come Ehm Come 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 posso dire Come intrattenimento Veloce Come diciamo così Intrattenimento veloce Perché per fare Serie Cioè non sono queste Sono Bello Divertente Però fare Deathmatch così Tranquilli Cioè E' proprio giusto per parlare con voi Per chiedervi qualcosa A proposito Adesso non so quando uscirà questo video Lo ripeto Penso Penso Il 16 Ehm Quindi lunedì Nel caso Quanti di voi oggi hanno iniziato la squadra? Perché io ve l'ho chiesto sotto un video di code Mi l'avete scritto tipo in tantissimi Che iniziavate il 16 Quindi fatemi sapere Come è andato il primo giorno in scuola Se avete Se avete fatto qualcosa di particolare In che classe siete Ehm Faccio gli auguri a tutti quelli che iniziano le superiori Perché il primo giorno in superiore è sempre traumatico Ehm Ma proprio Ma proprio tanto Almeno cioè il mio è sempre stato traumatico Cioè nel senso Ho fatto solo la prima volta La prima superiore Non sono mai stato bocciato Però intendo La prima superiore è stata traumatica Per me il primo giorno Ehm Da quanto ho letto Anche per voi C'era uno Non mi ricordo adesso Che mi aveva scritto nei commenti Che Era appena entrato in classe Tipo la prof di storia Ha già iniziato a interrogare Ma come cazzo fa a interrogare il primo giorno Queste sono quelle cose tipo Epicamente sdrogheggianti Che mi sono sempre chiesto Perché davvero Come fa a interrogare il primo giorno di scuola Ehm Del primo anno Tutto ciò non ha senso Però va bene Se sono quelle cose che Fai Alzo le mani Oppure Sono due le cose O alzi le mani O tabelflipi la scrivania Contro il Contro Contro il prof Il tabelflip sarebbe quando Non so se avete mai visto il meme Quello lì che Prende la scrivania E la tira La rovescia Prende il tabelflip E' quello brothers Quindi tranquilli Ma posso rinascere Su qualcuno No eh Mannaggia il cazzo Cambiamo arma Per questi ultimi minuti Di gameplay AEK971 Io c'ho sonno Però Se questo mi fa piacere Io c'ho proprio Molto sonno Perché sto registrando Tipo da una vita e mezza Ehm Ho registrato anche Minecraft oggi Ho registrato un po' Tante cose Quindi Sono effettivamente Abbastanza sonnato Ora va bene così La mia voce sta Impazzendo Mi raccomando bro Nei commenti Auguratemi buona fortuna Perché ne avrò bisogno Di tanta Buona fortuna Perché Oggi sto partendo Proprio per una cosa importante Che avevo Già annunciato su Facebook Che sto avendo problemi In questo periodo Ehm Sto partendo E fatemi auguri Tanta buona fortuna Perché ne ho bisogno Cerchiamo di sistemare tutto Bro Che è la cosa importante La cosa che mi preme di più Sistemiamo tutto Vediamo che cazzo Si riesce a fa' Fatemi buona fortuna E auguratemi Buona fortuna E Poi vi aggiorno Su Facebook A porno Tutto a porno Ehm No a parte questo Dicevo Andatevi a iscrivervi sulla pagina Facebook Noi facciamo l'ultima morte Perché sennò qua finisce più Il Il Video Ehm Allora dicevo Andatevi a iscrivervi sulla pagina Facebook Proprio per sapere di questa cosa molto important Che devo fare E Vi terrò giornate con foto E Forse anche qualche video Se riesco E Tanto nel treno Con l'LTE Riesco a carica tipo Mio Dio Quindi mi raccomando Noi ci vediamo un prossimo video Lasciate tanti bei piaci Tanti bei commentini E auguratevi buona fortuna Bros Enjoy E che ne sia con voi Bye bye Ciao